Le metriche chiave sono essenziali per l'innovazione Lean Canvas, offrendo misure concrete per valutare il progresso e l'efficacia di una startup. Questi indicatori non solo forniscono dati quantitativi ma rivelano anche i punti di forza e le opportunità di miglioramento, contribuendo decisamente al successo dell'impresa. La vera forza dell'innovazione Lean Canvas sta nella capacità di rimanere flessibili e reattivi. Grazie all'analisi delle metriche chiave, le startup hanno la possibilità di affinare e aggiustare i loro modelli di business rapidamente, in un ciclo continuo di ottimizzazione basato sul feedback. Tra le metriche più rilevanti troviamo il Total Addressable Market, che indica il potenziale di mercato totale. Le entrate ricorrenti mensili, che riflettono i ricavi prevedibili da abbonamenti. Il costo di acquisizione del cliente, che quantifica quanto costa attirare un nuovo cliente. Il Lifetime Value del cliente, una stima del valore totale generato da un cliente durante il suo rapporto con l'azienda. Il tasso di consumo, che mostra la velocità con cui la startup utilizza le sue risorse finanziarie. E il tasso di conversione, che indica la percentuale di utenti che compiono l'azione desiderata sul sito o app. Queste metriche forniscono un quadro dettagliato dell'andamento dell'attività, ma è fondamentale ricordare che i parametri specifici da monitorare dipendono dal settore, dal modello di business e dalla fase di crescita della startup. È quindi importante analizzare costantemente queste metriche, confrontarle con i benchmark di settore e adeguare le strategie di conseguenza per navigare efficacemente nel percorso imprenditoriale. Perché orientarsi verso il Lean Canvas? Questo strumento offre una modalità intuitiva e diretta, per tracciare una strategia efficace di risoluzione dei problemi. Uno dei suoi principali benefici è la capacità di aiutare imprenditori e startup a visualizzare e organizzare le loro idee, funzionando da bussola per orientare le loro ipotesi. L'intento ultimo del Lean Canvas è di evidenziare chiaramente la proposta di valore fondamentale dell'impresa, puntando a ideare soluzioni per i bisogni insoddisfatti dei clienti. Così facendo, diventa evidente il modo in cui il prodotto o servizio proposto indirizza e risolve efficacemente questioni rilevanti. Il Lean Canvas stimola lo sviluppo di soluzioni focalizzate sull'utente, progettate per offrire il massimo beneficio in tempi rapidi. Incarnando un approccio basato sulla soluzione, facilita l'identificazione delle risposte più adatte alle esigenze del cliente, promuovendo l'innovazione agile e l'allineamento del prodotto alle aspettative del mercato. Questo quadro consente di testare le idee in maniera ordinata e celere, rappresentando una metodologia efficace, rapida ed economica per delineare un modello di business adatto a una startup Lean. Il Lean Canvas si presta a essere una fonte unica di informazioni essenziali sul prodotto, utilizzabile anche in contesti diversi come le presentazioni agli investitori o l'onboarding del personale. La sua struttura, incentrata su metriche chiave, incoraggia un'analisi continua e un miglioramento costante del modello, rendendolo uno strumento insostituibile per chiunque desideri navigare con successo nel panorama imprenditoriale attuale. Prendiamo in esame la genesi del Lean Canvas di Airbnb, azienda fondata nel 2008 originariamente sotto il nome di AirBerry Breakfast. Anche se i principi della metodologia Lean Startup di Eric Wise sono stati formulati tre anni dopo la nascita di Airbnb, i fondatori avevano intuitivamente adottato un approccio simile fin dall'inizio. La spinta iniziale venne dalla necessità di guadagnare denaro per coprire l'affitto. La loro idea imprenditoriale scaturì quando in occasione di una conferenza locale che aveva riempito tutti gli hotel, decisero di affittare materassi ad aria nella loro abitazione, offrendo alloggio e colazione a 80 dollari per notte a ciascuno dei tre ospiti. Questa soluzione emergenziale si trasformò in un prodotto minimo vitale per testare il loro concetto. L'AirBnB attraversò varie fasi, inclusi alcuni lanci iniziali poco fruttuosi e il rifiuto da parte di 15 angel investor. Nonostante ciò, i fondatori non si arresero, cercando soluzioni alternative per finanziare il loro progetto, come la vendita di cereali che generò 30.000 dollari. Un ulteriore supporto finanziario arrivò da Y Combinator, un prestigioso acceleratore di start-up che investì altri 20.000 dollari. Il cambiamento di nome in Airbnb e il successivo investimento di 600.000 dollari da parte di Sequoia Capro nel 2009 furono decisivi per il decollo dell'azienda, la cui valutazione raggiunse i 38 miliardi di dollari nel 2018, anticipando una potenziale quotazione in borsa. Esplorando il Lean Canvas di Airbnb, possiamo osservare come la storia dell'azienda rifletta l'essenza della metodologia Lean. Partire da un'esigenza concreta, testare rapidamente un'idea sul mercato con risorse limitate e iterare in base al feedback ricevuto, senza mai perdere di vista l'obiettivo di risolvere problemi significativi per i propri clienti. Questa narrativa sottolinea l'importanza di adattabilità, perseveranza e visione nel percorso verso il successo imprenditoriale. In questa presentazione abbiamo fatto una rapida introduzione a un argomento complesso e importante, come quello della definizione del modello di business di una nuova idea imprenditoriale, dell'individuazione della visione, passando dalla definizione del valore generato alla sua traduzione in prodotto. Abbiamo presentato brevemente gli elementi fondamentali degli strumenti del Business Model Canvas e del Lean Canvas, dove quest'ultimo si rivela molto utile per la sua capacità di focalizzare l'attenzione sulla definizione di alcune caratteristiche del prodotto nelle fasi iniziali. La cosa fondamentale da comprendere è che un prodotto o un servizio devono nascere come risposta a una serie di bisogni o di problemi che un utente può avere, siano essi preesistenti o indotti. Una volta identificate le possibili soluzioni e il modo in cui sostenerle, arriva il momento in cui dobbiamo condividere e comunicare la vision del nostro prodotto. La metodologia Lean Canvas è uno strumento fondamentale per schiarirsi le idee e mantenersi focalizzati nel tempo. Compilare un Lean Canvas è come disegnare una mappa per il successo, e ricordate, ogni parte del Lean Canvas conta. Non è quindi un documento da scrivere e salvare in un cassetto, ma qualcosa da tenere aggiornato man mano che le cose cambiano. In bocca al lupo per il tuo futuro imprenditoriale!